Cambia ora l'edizione serale di MTG. Dal 3 ottobre andrà in onda alle 20 e 30. Nuova veste grafica, nuovi servizi e notizie per un'informazione puntuale e corretta. Niente proroga per i commissari straordinari al Comune di Scicli. Il ministro dell'interno Angelino Alfano infatti stoppa il commissariamento. Adesso la città è chiamata alle urne per eleggere il sindaco ed il consiglio comunale. Non si è tenuto l'incontro tra il sindaco di Modica e Ignazio Abate e di sindacati per discutere dell'avvertenza dopo scuolisti. A darne notizia Ettore Rizzone della UIL. Un'ora di attesa dietro la porta che non è servita a nulla. Lotta senza quartiere a chi sporca la città e crea discariche a cielo aperto. Il sindaco di Vittoria Giovanni Moscato ha iniziato la sua personale battaglia contro chi lascia i sacchi di spazzatura fuori dai cassonetti o sui cigli delle strade. E' Andrea Zanghi, il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo. Questa mattina cerimonia militare di scambio comando. Zanghi prende il posto di Francesco Pantano. Domani Zanghi assumerà l'incarico. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. La fase di commissariamento di Scicli è giunta al termine e quanto si apprende dall'onorevole Nino Minardo, che ha dichiarato di aver ricevuto la conferma dal Ministro dell'Interno Angelino Alfano. Il comune non ha un sindaco dal 23 dicembre del 2014, quando Franco Susino, allora indagato per lo scandalo delle infiltrazioni mafiose, oggi assolto, scelse di dimettersi dalla guida della città. Da allora si sono succedute due fasi commissariali. La prima con Ferdinando Trombadore e la seconda che ha visto tre commissari, D'Erba Giallongo e D'Aquino. Il servizio. Tra il 15 ottobre e il 15 dicembre di quest'anno i cittadini di Scicli torneranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco della città e il Consiglio Comunale. Volge al termine dunque la fase di commissariamento del lente. È arrivato il momento di chiudere il capitolo buio della storia della politica ciclitana, segnata da un processo che ha fatto finire la città sulle pagine dei giornali non per le bellezze barocche, bensì per presunte infiltrazioni mafiose nel palazzo del comune. Sino ad ora Scicli ha visto succedersi due fasi commissariali. La prima che ha fatto seguito alle dimissioni del sindaco Susino con l'arrivo di Ferdinando Trombadore. Poi a seguito dello scioglimento per mafia della civica Sise fu istituita una triade commissariale per verificare e controllare la salute e la estranetà alla malavita dell'ente ciclitano. Dunque adesso i tre commissari Gaetano Derba, Tania Giallongo, Antonietta D'Aquino lasceranno Scicli e adesso si aprirà in città una nuova fase politica. Oggi per Scicli è un grande giorno, ha commentato l'onorevole Nino Minardo che nel pomeriggio ha diffuso la notizia che si aspettava da tempo. La comunicazione gli è arrivata direttamente dal ministro dell'Interno, Angelino Alfano. Il commissariamento si era reso necessario a seguito di un provvedimento antimafia le cui motivazioni erano state confermate dal Tar del Lazio. Oggi si è scelto di non prolungare ulteriormente perché, nonostante ci fossero delle illegittimità di carattere amministrativo, si è ritenuta più opportuna la via democratica di restituire la parola ai cittadini non prolungando il commissariamento di ulteriori sei mesi, considerando anche che le elezioni amministrative si potranno tenere, si legge nella nota a firma dell'onorevole Nino Minardo, nel turno straordinario in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. Adesso è arrivato il momento di guardare avanti verso il futuro e di lasciare il passato dietro le spalle. Grave incidente stradale ieri in territorio di Scoglitti. Un anziano ha perso il controllo del mezzo e ha travolto un ciclista di 30 anni. Lui adesso lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione del Garibaldi di Catania. Le innagini del sinistro sono della Polizia Municipale di Vittoria. Sentiamo i dettagli. Un ciclista di Acata di 30 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato investito ieri pomeriggio da un'autocondotta da un anziano di 70 anni sulla strada provinciale 105 sulla Scoglitti, stranto a Croce e Camerina. Il giovane era solo, i mici, stava percorrendo il senso di marcia opposta a quello del mezzo che lo ha travolto. Violento l'impatto, lo scontro è stato affrontare gravissime le condizioni del 30enne che è stato trasportato e nel risoccorso al Garibaldi di Catania e in prognosi riservata. Queste sono le condizioni dell'auto a seguito dell'incidente. L'anziano, che è un ragusano residente all'estero e che si trova in vacanza nella sua terra, non ha saputo fornire utili informazioni agli investigatori. L'uomo non è rimasto ferito. La sua auto è stata sequestrata. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Vittoria, che ha anche trasmesso il fascico all'autorità giudiziaria per i provvedimenti del caso. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i fatti anche per comprendere il motivo dello scontro. Perché l'anziano ha perso il controllo del mezzo investendo il ciclista? Lui ha riportato gravissime ferite. Il primario di rianimazione del Garibaldi di Catania, Stargio Pintaudi, ha confermato che il quadro clinico è critico. Il giovane ha frattura in tutto il corpo e un vistoso trauma cranico. Non è ancora stato sottoposto all'intervento, ma è probabile che nelle prossime ore sarà eseguito. Assemblea oggi dei dipendenti del comune di Modica, che sino a giugno di quest'anno erano impiegati negli istituti scolastici modicani e che ad oggi invece si trovano a prestare non si sa quale servizio al Palazzo della Cultura. Una situazione paradossale su cui si registra una forte presa di posizione del sindaco di Modica, Ignazio Abate, che tramite Facebook ha diffuso un video per far chiarezza su quanto accaduto, ma che è stato mal digerito dal personale che ad oggi non capisce come stia accadendo realmente. In corso adesso un vertice tra i sindacati ed il sindaco per chiarire i contorni della vicenda. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Marco Scavino. Voglio raccontare la vicenda dei posti detti doposcolisti del comune di Modica, che hanno fatto tipo degli insegnanti. Nella realtà questo personale ha lavorato e messo a disposizione le proprie ore per circa 18 ore settimanali, avendo gli stessi privilegi dei professori. Quindi abbiamo deciso, proprio per rintinguare e mettere a disposizione più personale negli uffici per rogare servizi ai cittadini, di sorprimere questo servizio diretto come è stato organizzato fino ad ora, quindi tornare, ahimè, alle 36 ore settimanali, ahimè alle solo 30 ore di ferie, 30 giorni di ferie. Metteremo a disposizione un servizio addirittura fino a casa. Sin qui, chi ascolta, potrebbe pensare che questa sia una storia magica di crescita e di rinnovo, ma a detta di Ettore Rizzone della Will, questo altri non è che un falso come pochi ce n'è. Le famose 36 ore che il sindaco di Modica, Ignazio Abate, rivendica e che dice non essere mai state espletate dal personale dipendente del comune, non sono previste dal loro contratto. I 56 dipendenti, che vedete nella Sala Triberio di Palazzo della Cultura, così come provano le nostre immagini, hanno sottoscritto, così come confermano i sindacati, il contratto collettivo nazionale del lavoro di comparto degli enti locali. Cosa dice questo documento? Che questa figura professionale, tutelata dalla legge e che svolge un ruolo importante nella vita dell'istruzione, deve, come prevede il regolamento nazionale, espletare 43 settimane lavorative, suddivise in 24 ore lavorative settimanali per il personale impiegato nelle scuole elementari, mentre per le scuole medie 18 ore. Al termine delle 43 settimane e nei periodi di vuoto, come ad esempio le vacanze di Natale, questo personale rimane a disposizione dell'autorità scolastica, che, a sua discrezione, sceglierà come impiegare il dipendente. Rizzone, inoltre, sottolinea come sia contronorma la posizione di Abbate nel mettere nelle mani dei dirigenti l'assegnazione del profilo professionale. Quest'ultimo è di competenza della Giunta, che deve prima presentare un elenco di ruoli vacanti e di mansioni da far svolgere al personale. Sulla base del titolo, dell'istruzione e del merito, il dipendente verrà assegnato ad un determinato settore. Un esempio? Immaginate una persona laureata in lettere moderne. Che contributo potrebbe dare all'ufficio tecnico di Palazzo San Domenico? Per quanto riguarda la rimodulazione del servizio di doposcuola, potrebbe sembrare al cittadino una bella opportunità quella di avere, sempre valutando i casi, un docente che segue il figlio con difficoltà a casa. Ma l'interrogativo sorge spontaneo. Come e con quali risultati i 56 docenti modicani potrebbero seguire gli studenti, tenendo conto della logistica e della didattica dei vari istituti, diversa per ogni studente della città. Oggi, alle 12, doveva tenersi un confronto tra il sindaco e i sindacati, ma come riferisce Ettore Rizzone della UIL, a bate, sino alle 13, non li ha ricevuti. E dunque, l'appuntamento è saltato, presumibilmente per la giornata di domani. I turisti che visiteranno il Palazzo della Cultura adesso potranno godere, oltre delle ceramiche romane, della visione di 58 persone che di fatto stanno, ma non stanno, lavorando. Un anno di tempo per poter ricomprare il proprio capannone venduto all'asta. E' questo l'accordo raggiunto stamani davanti all'ufficiale giudiziario tra il vecchio proprietario e il nuovo titolare dell'immobile, che si trova in Contrada Fanello a Vittoria. Il capannone, di circa 500 metri quadrati, è stato aggiudicato per 5.000 euro. Anche stamani erano presenti i rappresentanti del Movimento Riscatto e del Comitato contro le Aste Giudiziarie, i quali parlano di un'altra vicenda che si conclude positivamente, dopo quella di ieri della famiglia Olivieri di Acate, a cui sono stati concessi altri 4 mesi di tempo. Permane però il problema delle vendite all'asta a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato. A questo fine, l'azione dei due comitati prosegue per chiedere modifiche sostanziali della normativa vigente. L'assessore regionale alla sanità, Baldo Gucciardi, ha presentato il nuovo piano della rete sanitaria ai manager di Aspe ed Ospedali, e ieri anche alle organizzazioni sindacali. La prossima settimana dovrebbe essere depositato in Commissione Sanità dell'Ars. Vediamo qual è il nuovo volto della rete ospedaliera in questo servizio. Ospedali classificati per funzioni e servizi, con tagli o accorpamenti ai reparti con le stesse mansioni. Nessun decreto per il momento, ma l'assessore alla salute Baldo Gucciardi ha illustrato ieri il piano ai sindacati. Il nuovo schema stabilisce gli ospedali di base, ospedali di primo, di secondo livello, ospedali di zone disagiate e di comunità. Il nuovo rimodulamento prevede la cancellazione di 60 posti letto e inevitabilmente il licenziamento di 150 dipendenti. Il piano divide la Sicilia in quattro bacini territoriali da 1.600.000 abitanti, Messina, Caltanissetta, Enne Grigento, Catania, Ragusa, Siracusa e Palermo Trapani. Negli ospedali di base come l'Ingrazia di Palermo, Partinico, Termini, Merese e Cefalù rimarranno solo quattro reparti, medicina, chirurgia, ortopedia e cardiologia. L'ospedale Giglio di Cefalù perderebbe così cinque reparti, neurologia, urologia, oncologia ed emodinamica con unità di terapia intensiva cardiologica. Tra gli ospedali di zone disagiate, Lipari, Bronte, Corleone, Petralia e altri tre presidi periferici, mentre negli ospedali di comunità confluirebbero Scicli, Noto e Militello, Val di Catania, in cui resteranno solo i malati cronici. Nel secondo livello si conteranno l'Arnas Civico a Palermo, il Cannizzaro a Catania e il Policlinico di Messina. Ogni bacino territoriale avrà un suo presidio ospedaliero di riferimento detto ABB, il Cannizzaro di Catania, il Policlinico di Messina, gli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo. Sul piano delle assunzioni saranno sbloccate solo quelle dei vecchi vincitori di concorso nelle discipline di emergenza urgenza. Atteso per la prossima settimana il passaggio della bozza Lars per il parere della sesta commissione che poi andrà in giunta. La nuova rete, riferisce Gucciardi, non nasce dall'esigenza di risparmiare, ma da quella più importante di assicurare a tutti i cittadini una tempestiva ed efficace assistenza. L'azienda sanitaria provinciale di Ragusa applaude all'iniziativa dell'assessore Baldo Gucciardi, con cui si ridefinisce l'assetto degli ospedali dell'isola. L'ancoraggio forte al decreto ministeriale 70 Balduzzi garantisce una migliore qualità di assistenza in un contesto caratterizzato da nessuna chiusura, ma solo dalla realizzazione dell'impiego delle risorse. Il sistema si basa sul concetto che non c'è pronto soccorso dove non ci sono almeno 20.000 accessi. Questo, nell'ottica delle competenze professionali acquisite e mantenute, nel solo interesse della sicurezza del paziente. E dove non c'è pronto soccorso non c'è ospedale, ma solo strutture territoriali di supporto. Per quanto riguarda la nostra azienda, viene ribadita la correttezza delle scelte fatte in atto aziendale, già largamente ispirato alla Balduzzi, proseguendo nel processo che ci porterà ad un'azienda più organizzata ed efficace, nel rispetto del contributo di tutte le aree territoriali, ciascuna per la sua vocazione, dice il direttore generale Maurizio Aricò. Ed è stato arrestato in flagranza di reato un rosolinese dedito ai furti all'ospedale maggiore di Modica. L'attività della polizia ha permesso di risalire all'autore la stessa sera del furto. A Rosolini, dove era arrivato con l'auto di un medico, rubata dal parcheggio del nosocomio. Vediamo. È entrato indisturbato l'ospedale maggiore di Modica, nello spogliatoio del personale del reparto di nefrologia, ha forzato l'armadietto di un medico di 35 anni, ha rubato il portafogli contenente una piccola somma di denaro contante nei chiavi dell'abitazione dell'autovettura. È stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia di Modica in tempi record del 25enne, già noto per reati specifici, Michele Emmolo, tornato a Rosolini con l'auto rubata nel parcheggio dell'ospedale, di proprietà del professionista. Quest'ultimo, alla fine del turno di lavoro, si è accorto del furto e si è avventato verso il parcheggio sottostante all'ospedale, scoprendo che il suo mezzo era stato portato via. Grazie alla rilevazione satellitare, è stato intercettato il ladro nel comune di Rosolini. Le intense ricerche effettuate dalle pattuglie della polizia per le vie di quella città hanno consentito di rintracciare la macchina parcheggiata in una viuzza. Durante l'appostamento è stato notato il sospettato, sa dire, nell'auto rubata. È stato fermato e arrestato nel corso della notte per furto. Il pubblico ministero di turno, presso la procura della Repubblica di Siracusa, ha disposto gli arresti domiciliari. Emmolo era già stato denunciato per un altro furto commesso lo scorso giugno sempre nello stesso ospedale. Al medico, vittima del furto, è stata restituita in tempi brevi l'auto e tutti gli altri oggetti rubati. La polizia di Vittoria ieri sera le ha riconosciuti fermati e perquisiti mentre erano a bordo di un'auto. Sono un trentenne con una condanna per furto in abitazione e numerose denunce per lo stesso reato. Ed il passeggero 35enne, pluri pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Nel cofano dell'autovettura i poliziotti hanno trovato quattro palanchini considerati strumenti atti ad aprire o forzare serrature. I due giovani sono stati denunciati. Uno, il trentenne, che è il proprietario dell'auto, per possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli. L'altro, sorvegliato speciale, perché non ha ottemperato agli obblighi del giudice che ha imposto di non associarsi a persone pregiudicate. Vasto incendio nel pomeriggio incontrata a Rizza, in territorio di Scicli. Ad essere divorate dalle fiamme, sterpaglie e canneti, a causa del forte vento, l'ingegno si è propagato sino ai terreni dove sono presenti delle serre. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, guardia forestale e protezione civile. E un altro incendio di probabile matrice dolosa dopo la mezzanotte incontrata a Bosco Rotondo a Vittoria. Sono state distrutte dalle fiamme tre auto di proprietà di tre fratelli, originari di Comiso. I mezzi erano parcheggiati nel cortile privato dell'abitazione. Sembra un atto intimidatorio, ma sarà la polizia a chiarire la matrice. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, ha partecipato all'aggiunta straordinaria convocata dal sindaco di Catania, Enzo Bianco, per fare il punto sullo stato d'attuazione dei finanziamenti anche del PON Metro. Bianco ha detto stiamo correndo e siamo già pronti sia per gli appalti sia per i progetti esecutivi. Già appaltabili, opere per 140 milioni di euro. Si è parlato anche di rischio sismico. Vediamo. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, ha apprezzato ieri il metodo di lavoro dell'aggiunta comunale di Catania. Lo ha detto al termine della riunione di giunta al Palazzo degli Elefanti, convocata dal sindaco Enzo Bianco, per fare il punto della situazione del patto per Catania, attraverso il quale sono stati assegnati alla città finanziamenti per 740 milioni di euro, compreso il PON Metro e altri 42 milioni di euro per il POR First. Nel corso della riunione, alla quale, oltre agli assessori, al segretario, al direttore generale, Antonella Liotta, hanno preso parte anche tutti i dirigenti, alcuni funzionari del comune, si è parlato anche della situazione del rischio sismico a Catania. Antonella Liotta, capo del gruppo di lavoro che sta seguendo l'attuazione del patto per Catania e gli altri finanziamenti, ha presentato una serie di diapositive che illustravano lo stato dell'arte. In particolare è emerso che le opere per le quali esiste già il progetto esecutivo e che dunque possono essere subito appaltate, ammontano a 140 milioni di euro e sono il rifacimento della mantellata, ossia della copertura, del molo di Levante del Porto, la strada di collegamento Etna Sud, il completamento delle infrastrutture verdi a Librino e il parco urbano dello stesso quartiere, gli orti sociali urbani e gli interventi per la riqualificazione della zona industriale. Semaforo verde ma con affidamento della progettazione esecutiva anche per opere per altri 33 milioni e mezzo riguardanti la rifunzionalizzazione della rete museale, la sistemazione del palanesima e per gli interventi di adeguamento sismico delle scuole cittadine e di alcuni altri edifici pubblici. È stato poi affrontato il problema del rischio sismico e il sindaco Bianco ha sottolineato come nei giorni scorsi la Giunta abbia approvato una delibera con misure urgenti di aiuto agli interventi privati per mettere in sicurezza le abitazioni grazie alla quale Catania diventerà la prima città italiana con incentivi a privati per adeguamento antisismico. De Vincente ha ricordato come il governo Renzi stia procedendo con il progetto Casa Italia che integrerà diverse attività rischio sismico ma anche biotecnologie e risparmio energetico aggiungendo che bisognerà comunque occuparsi anche con appositi fondi della sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato. Domani il presidente del Consiglio Matteo Renzi sarà in Sicilia ad Agrigento dinanzi al Tempio della Concordia firmerà il patto da 2 miliardi e 200 milioni per l'isola. Domenica tappa a Catania per la festa dell'unità. Un patto per la Sicilia di 2 miliardi e 200 milioni di euro sarà firmato domani ad Agrigento dal Premier Matteo Renzi. La firma sarà apposta nel corso di una cerimonia nello scenario della Valle dei Templi dinanzi a quello della Concordia il più famoso prescelto anche come auspicio politico. Il capo del governo arriverà in Sicilia domani domenica sarà a Catania per la festa dell'unità. La giunta regionale aveva varato e sottoposto alla presidenza del Consiglio dei Ministri i due patti metropolitani di Palermo e di Catania già firmati e operativi con i rispettivi sindaci Leo Luca Orlando e Denzo Bianco. Più in generale il patto per la Sicilia prevede secondo le dichiarazioni rese da Crocetta in occasione della firma Palermo mille cantieri e lavoro per migliaia di persone interventi nella viabilità nel settore edile e nelle infrastrutture della Sicilia centrale. E adesso ci separiamo per la pubblicità. A tra poco. Ben ritrovati. Singolare e provocatoria iniziativa del sindaco a Vittoria. Il primo cittadino Giovanni Moscato ha guidato una ronda che perlustra le discariche abusive a caccia di trasgressori e cittadini incivili che buttano ovunque oggetti di ogni tipo. Chi sporca paga. Il sindaco di Vittoria Giovanni Moscato ha escogitato una singolare e provocatoria iniziativa per combattere il fenomeno delle discariche abusive. Il primo cittadino ha deciso di guidare una ronda per perlustrare le discariche a cielo aperto a caccia di trasgressori e cittadini incivili che buttano ovunque oggetti di ogni tipo. Tra questi anche una docente di un istituto scolastico di cui è stata rinvenuta anche una fotocopia della carta d'identità e alla quale Moscato ha scritto una lettera pubblicata sulla sua pagina Facebook. Un'azione dimostrativa ma anche concreta ed effettiva. Siamo venuti qua gli amministratori i consiglieri la polizia municipale stiamo raccogliendo tutte le prove possibili e immaginabili abbiamo trovato molti nomi molti indirizzi molte carte d'identità molte cose che fanno riferimento a delle persone a degli ingivili che vengono qua e vengono a buttare la loro immondizia in un terreno comunale in un terreno che adesso è stato deturpato quindi noi stiamo pulendo per l'ennesima volta durante quest'estate ma da oggi ma già in passato ci sono state le sanzioni oggi ne stiamo facendo ancora di più e a prestissimo partirà un sistema di videosorveglianza. Il sindaco guanti alle mani non si tira indietro e come un detective scava tra i rifiuti alla ricerca di dettagli utili per scovare e multare chi si è reso responsabile di atti di inciviltà un messaggio pedagogico per il rispetto delle norme e della convivenza civile è un'azione deterrente contro la mancanza di senso civico. Chi verrà a buttare qua nel nostro territorio formando discariche abusive verrà sanzionato punito e perseguito a norma di legge. E a seguito dei controlli sempre più stringenti contro le discariche abusive a Vittoria messi in atto dalla polizia municipale nella notte appena trascorsa sono state contestate cinque sanzioni per abbandono di rifiuti sulla provinciale Vittoria Licodia. Si tratta di cinque persone colte in fragranza e tutte residenti a Comiso. Al contempo le attività di controllo ambientale effettuate nei giorni scorsi ed in particolare nel pomeriggio di ieri hanno portato ad avviare oltre 30 accertamenti di illeciti. Cerimonia militare questa mattina al porto di Pozzallo per il passaggio di consegne tra il comandante Pantano ed il neocomandante Zanghi presenti autorità civili e militari. Si è insediato questa mattina alla capitaneria di porto di Pozzallo Andrea Zanghi nuovo comandante dopo tre anni di comando il capitano di fregata Francesco Pantano lascia la capitaneria di porto di Pozzallo. Oggi la cerimonia militare di passaggio delle consegne cui hanno partecipato autorità civili e militari della provincia di Ragusa. Durante la cerimonia è stato sottolineato il ruolo della capitaneria Pozzallese. Non di semplice gestione un territorio segnato da un'emergenza legata al fenomeno della immigrazione e che Pantano in questi anni ha fatto operare con ottimi risultati. L'eredità adesso va a Zanghi proveniente dalla direzione marittima di Catania e che vanta un ricco curriculum. Zanghi infatti nel corpo della capitaneria di porto dal 1996 ha prestato servizio dopo aver frequentato il corso di formazione in accademia navale a Milazzo. Dalle 2005 al 2007 è stato al comando della capitaneria di porto di Porto Vasto laureato in giurisprudenza e anche abilitato nella professione di avvocato ma è anche ispettore per l'effettuazione delle verifiche di sicurezza a bordo di navi mercantili. Nel 2011 frequenta l'istituto militare della marina militare di Venezia dopodiché dal 2007 ad oggi ha svolto l'incarico di capo sezione tecnica e poi capo servizio operativo presso la direzione marittima di Catania. Andiamo adesso a Militello in Val di Catania dove ieri sera la città ha festeggiato la sua patrona Maria Santissima della Stella. I festeggiamenti sono stati seguiti dalle telecamere del gruppo editoriale Mediterraneo e raccontati da Salvo La Rosa e Sara Donzuso. Adesso l'organizzazione sta lavorando per l'ottava che si terrà il prossimo 16 settembre. La replica sarà trasmessa domenica alle 20 e 30 su Video Mediterraneo e Sicilia Sat. Militello in Val di Catania ha festeggiato ieri sera la sua patrona Maria Santissima della Stella e lo ha fatto alla grande. Nonostante nel corso dei secoli la festa abbia subito diversi cambiamenti alcuni appuntamenti però li ha mantenuti come la processione di ieri e poi l'ottava che sarà celebrata il prossimo 16 settembre. I festeggiamenti iniziano il 29 agosto con la cantata che apre il novenario di preparazione e la processione con il quadro della Madonna della Stella per le vie della città annunciando la festa ormai vicina con un canto tradizionale. Il clou dei festeggiamenti ieri sera con la festa iniziata già alle prime luci dell'alba con la celebrazione della Santa Messa poi nel pomeriggio la solenne uscita e la processione della statua della Madonna della Stella per le vie della città. La Madonna ha fatto rientro in serata al santuario e tutto accompagnato dei fuochi d'artificio. L'immagine miracolosa della Madonna della Stella è una scultura linea del 1618 collocata entro un fercolo del 1624. Tanta la devozione del popolo militellese verso la Madonna della Stella che ha accompagnato ogni momento della storia della città soprattutto quelli più difficili. E le peculiarità della festa ieri sono state raccontate da Salvo La Rosa e Sara Donzuso nel corso della diretta trasmessa a partire dalle 21 su Video Mediterraneo Sicilia Sat e in streaming su videomediterraneo.it Grazie alle bellissime immagini dello staff tecnico sono stati tanti telespettatori che hanno seguito i festeggiamenti da casa. Lo testimoniano anche le telefonate dei telespettatori che hanno interagito in diretta salutando amici e parenti che vivono all'estero. Anche in questo caso tanti militellesi che grazie a Sicilia Sat hanno avuto modo di rivivere i momenti più salienti della festa della patrona ritornando magari indietro nel passato. Adesso l'organizzazione si sta preparando all'ottava con la processione della statua della Madonna della Stella nella piazza del santuario. Subito dopo sarà riposizionata e chiusa nella sua cappella. Il 16 settembre infatti fa un giro più breve davanti al sagrato della chiesa di Santa Maria. Anche in questo caso i fuochi d'artificio concluderanno i festeggiamenti. Da lunedì prossimo e per 60 giorni circa il tratto di via Correria a Modica a partire dalla confluenza con la via Lavinaro San Paolo per 145 metri sarà interdetto al traffico automobilistico. Alla base della decisione lavori su un immobile con quattro appartamenti destinati all'edilizia economica e popolare. La ditta migliore arte e costruzioni di Serra di Falco per conto dell'IACP di Ragusa dovrà intervenire per la realizzazione di opere strutturali nell'immobile garantito il passaggio pedonale lungo questo tratto di strada. E il settore cultura e beni culturali rende noto che il castello di Donna Fugata dal 13 settembre fino al 2 ottobre 2016 prolungherà l'orario estivo di apertura e sarà pertanto fruibile dal pubblico dal martedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 19. non ci sono aggiornamenti dunque il telegiornale termina qui buon proseguimento sulle nostre reti cambia ora l'edizione serale di MTG dal 3 ottobre andrà in onda alle 20 e 30 nuova veste grafica nuovi servizi e notizie per un'informazione puntuale e corretta grafica 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 grafica